subito prendere posto, poi abbiamo Roberto e sono la voce benissimo, la voce sono Paolo e sono i tastieri tastiere, poi Guido e chitarra chitarra e poi Luciano al basso questi ragazzi fanno parte appunto del gruppo Italian Style e hanno tutti quanti gusti musicali differenti uno dall'altro allora andiamo alla voce e volevo chiederti io so che avete intitolato la vostra canzone come il vostro gruppo motivo? C'è una scelta scaramantica magari? Perché parla un po' di noi ecco in poche parole ci spiega come si forma un gruppo benissimo, allora io vi auguro una lunga strada con questa Italian Style non mi sembra l'amore non è stato facile mai ma poi non è stato facile mai Noi sogniamo strani, o di più caverote, ragni a vedere se manca la colpente, per minuti o di più di più. Noi sogniamo strani, o di più caverote, ragni a vedere se manca la colpente, per minuti o di più. Lei ci camminerà, perché se no, domani non ci vedrà più, ci basta poco per capare via. Poi confererà con noi l'amore di quel momento. Noi sogniamo strani, o di più caverote, ragni a vedere se manca la colpente, ragni a vedere se manca la colpente. Noi sogniamo strani, ragni a vedere se manca la colpente, ragni a vedere se manca la colpente. Noi sogniamo stranami, ragni a vedere se manca la colpente, ragni a vedere se manca la colpente. Era con noi l'amore di quel momento 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 L'amore di quel momento